Buonasera, buonasera ascoltatori di YouTube, vi presento il mio nuovo appartamento, questa volta l'ho trovato, ho girato tutte le montagne, i chalet più immaginari possibili della Lombardia e l'ho trovato qui, in questo luogo, ma guardate che bello, guardate insomma, entriamo nell'epoca passata, ma in una ristruttura moderna, sì, ma guardate, pronto tutto, pronto, io sono nato oggi, sono nato oggi sabato 9 dicembre 2023, per me questo appartamento è un sogno, è un sogno che lo cercavo da anni e anni e l'ho trovato, già un facsimile avevo trovato Brumano in Vallimagna, ma questo qua è ancora più bello, ci sono le poltrone, c'è un habitat ristrutturato in senso moderno, ma lasciato anche da ricordare il passato con queste rocce, ma qua c'è tutto, c'è microonde, luce nuova, ma guardate, guardate bene la cucina per domani mattina, da far da mangiare e guardate insomma anche la scorta dentro in una specie di caverna, c'è l'olio, qui non è sul gelato perché siamo a una temperatura di 30 gradi in questo ambiente, dove caldo entra a far parte del mio senso umanitario, guardate le insennature che ci sono, le piccole grotte, ma non ve lo dico dove sono perché rimane un segreto lombardo, un segreto a me stesso e per di più devo stare attento, molto attento a fare questa scalinata perché perché devo stare attento a abbassare la testa, la schiena è molto basso qua, è molto basso, ecco ci sono, ci sono, ci sono, ci sono ascoltatori di youtube, guardate dove sono finito oggi, che fatica a salire per vedere il primo piano, guardate la porta che chiude la parte superiore con la parte inferiore abitabile a cucina, poi tiro giù il legno, il legno lo tiro giù di queste scale, ho battuto la testa, no, calorifero moderno, ma guardate insomma, qua è l'altra uscita verso la stalla, guardate il pavimento, il separè, una cosa molto sensuale, il caminetto, i quadri, guardate questo mobile dell'epoca passata, con la televisione sovrastante e moderna, un altro salotto, qua siamo il primo piano, sono io se non ci credete, sono io la luce che illumina la mia vita, le tendine che guardano il mondo e coprono i forestieri perché io sono un viandante, che ho trovato questa casa, guardate la decorazione dei muri, i quadri d'epoca e per di più la scrivania di una volta, che bella, che bella e per di più adesso entra nella zona notte, attenzione qua a non sbattere la testa, attenzione qua a un letto, che armonia tale, che armonia è questo letto, coi muri dipinti e qui questo quadro che tutti, tutti, tutti lo conoscete, questo quadro famoso di Leonardo da Vinci, guardate Aldo stasera soggiorna qua, ma non vi dice il paese, perché io vivo in una grotta qua, questa casa è stata costruita nell'entroterra di una parte rocciosa, dove per mia fortuna ho avuto adesso la possibilità di averla, guardare anche il bagno, c'è tutto, voglio cercare la luce, la luce, la luce qui, eccola qui la luce, Aldo, un saluto dall'epoca passata, dove il mio io vivo vive in continuazione, tra un'emozione e l'altra di cercare luoghi abitativi e guardate l'incanto, qui dorme un piccolo grande pittore, solo guardare il dipinto di quel muro che ho di fronte e letto, come fatto, io stasera rimango qui, ma per tanti giorni, Aldo.